Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org I motivi che ci fanno capire perché Dio ci ha donato la Vergine Maria sono almeno due. Il primo motivo attiene alla modalità della fede, il secondo alla consolazione nella fede. Diciamo qualcosa in merito a questo primo motivo, cioè la modalità della fede. Cosa vuol dire che Dio ci ha donato Maria Santissima per la modalità della nostra fede? Vuol dire che Dio vuole che nella nostra fede ci conserviamo bambini e per questo occorre una madre. Gesù lo dice chiaramente, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli, Matteo 18. Infatti è proprio dei bambini il sapersi affidare. Ovviamente qui Gesù non è che intende presentare una sorta di discrimine anagrafico, per cui se si muore bambini si va in paradiso, se invece non si muore bambini non si va in paradiso. Dice che bisogna conservarsi bambini. Quindi bisogna conservare un atteggiamento di stupore, di meraviglia. E' anche un atteggiamento di abbandono. Infatti non a caso una grande santa come Teresa di Lisie ci parla della cosiddetta spiritualità dell'infanzia. Ma veniamo adesso al secondo motivo che ci fa capire perché Dio ci ha donato la Vergine Santissima. Abbiamo detto che questo secondo motivo riguarda la consolazione nella fede. Ma cosa significa consolazione nella fede? Significa che Dio vuole che nella nostra fede viviamo la dimensione della tenerezza. E chi può più rappresentare la tenerezza se non una madre? Infatti, se dal padre dobbiamo trarre il senso della protezione, è certamente dalla madre che dobbiamo vivere quello della tenerezza. Diciamolo francamente, il bisogno della tenerezza è costitutivo nell'uomo, perché è solo nell'uomo che si incontrano armonicamente le passioni del corpo e l'anima. Solo l'uomo, l'animale no, può piangere e può ridere. Può soffrire e può gioire. Tale bisogno di tenerezza è di ogni uomo, indipendentemente dallo stato di cultura e dall'età. Leggiamo adesso alcuni versi che ci confermano tutto questo. Si tratta di versi dell'inglese John Keats, dell'italiana Alda Merini e del celebre scrittore francese Victor Hugo. John Keats dice che ogni uomo non può fare a meno di un tenero bacio. Ecco i suoi versi. Ora un tenero bacio, sì con quel bacio, entro in una promessa infinita. Alda Merini parla di un bisogno di tenerezza che è una vera e propria fame e dice abbiamo fame di tenerezza. In un mondo dove tutto abbonda, siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il nostro cuore. E infine Victor Hugo afferma che nella figura della madre si vive la tenerezza della quiete e gli scrive così le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini vi dormono profondamente. Prima abbiamo citato Santa Teresa di Lucie e torniamoci. Ella fu guarita da una sindrome depressiva osservando una statua della Madonna che le sorrideva e poi scrisse così ad un tratto la Vergine Santa mi parve bella tanto bella che non avevo visto mai cosa bella tal segno. Il suo viso ospirava bontà e tenerezza ineffabili ma quello che mi penetrò tutta l'anima fu il sorriso stupendo della Madonna. E qui termina la citazione. Insomma Santa Teresina trovò nel sorriso della Vergine tenerezza e soprattutto la quiete. Questo deve essere anche per ognuno di noi ed ecco perché Dio ci ha donato Maria Santissima.